Roberta Marchi, ciao. Ciao Laura. Salutaci da Firenze. Allora, affermo al liceo, ai colleghi, al preso da tutti i ragazzi, tanti saluti da noi toscani di Montecatini Terme in visita a Firenze, in uno dei luoghi più magici della Toscana. Quindi questo è anche un intervento di marketing per il turismo toscano. Venite a trovarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.